Vengo dalla Slovenia, gioco esterno-sinistro di difesa, sono veloce, aggressivo e un giocatore tecnico. Che cosa pensi di questa partita tra Chievo e Bologna? Magari non un grande spettacolo nel finale, ma un punto importante. Non è stato forse un bel match della tribuna per i tifosi che sicuramente volevano più gol, ma il Chievo ha giocato un buon primo tempo. Non era facile rimontare il gol di svantaggio del Bologna. Il Chievo è stato bravo e poi ha amministrato il pareggio che, a mio avviso, è un buon risultato. Che cosa pensi e che cosa conosci del Chievo? Ho visto molte partite del Chievo. È un buon club con una buona storia. Credo che lo spirito della società sia molto buono. Vengono presi bravi e giovani giocatori che vengono valorizzati e poi ceduti a club più importanti. E questo normalmente è una filosofia molto valida.